Abbiamo voluto rispettare innanzitutto l'ambiente, quindi utilizzando materie prime e materie prime ecosostenibili e packaging riciclabile, ma allo stesso tempo abbiamo voluto rispettare il benessere e la salute delle persone, quindi utilizzando materie prime e principi attivi di origine naturale principalmente. Quindi in questi prodotti non troveremo derivati siliconici, non troveremo conservanti sintetici tipo parabeni, non troveremo tensioattivi aggressivi che sono causa di dermatiti e allergie. Da un punto di vista anche della creazione della fragranza abbiamo voluto creare una fragranza fresca, se mi permettete il termine direi sportiva, quindi con note di testa fresche, aggrumate come il bergamotto, il mandarino, la lisetta e note di corpo e di fondo invece più erbace, più speziate, più legnose. Per quanto invece riguarda i due prodotti igienizzanti, quindi il sapone mani e lo spray mani, abbiamo voluto utilizzare come fragranza degli oli essenziali puri, quindi di limone, di menta, di tea tree oil, che ne aumentano in modo importante l'efficacia antibatterica. La linea WL è possibile acquistarla innanzitutto nello shop online di WL, poi fisicamente li troviamo nel punto vendita Prodi Sport in Largo Ascoli Piceno a Pesaro, le troviamo nello spazio Conad che è l'ex iperrossini in via Gagarin e poi le troviamo come nuovo punto vendita alla farmacia Mari di via Fratelli Rosselli al mare.